Cambio programmazione Rai 1 dicembre, Ballando con stelle si ferma, il paradiso no stop. Cambio programmazione su Rai 1 nel corso del mese di dicembre 2022. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda di Ballando con le stelle. Lo show di punta del sabato sera condotto da Millie Carlucci, il quale andrà incontro ad un vero e proprio stravolgimento per lasciare spazio ai mondiali di calcio. Indietime cambiamenti anche per quanto riguarda il paradiso delle Signore 7, la fortunata sop opera del pomeriggio che si fermerà per qualche giorno a causa dei mondiali. Ma poi non subirà più alcun tipo di stop nelle settimane a seguire. Nel dettaglio, il cambio programmazione di Rai 1 del prossimo dicembre 2022 interesserà in primis la messa in onda di Ballando con le stelle 2022. Lo show di punta del sabato sera televisivo, condotto da Millie Carlucci, subirà delle sostanziali modifiche dettate dall'esigenza della rete ammiraglia di lasciare spazio alla messa in onda delle partite dei mondiali di calcio 2022. Di conseguenza, venerdì 2 dicembre sarà anticipata la puntata dello show inizialmente prevista per sabato 3 dicembre in prima serata su Rai 1. Lo show prenderà la linea intorno alle 21.50, ossia subito dopo il finale dell'incontro calcistico che inizierà come sempre alle 20. La settimana successiva, invece, Ballando con le stelle si fermerà, sabato 10 dicembre. Infatti, non è in programma una nuova puntata con lo show di Millie Carlucci. Il programma tornerà in onda direttamente sabato 17 dicembre con la messa in onda della semifinale in diretta televisiva. Cambio programmazione anche per quanto riguarda la finalissima dello show condotto da Rai 1, l'ultima puntata. Infatti, non sarà trasmessa di sabato ma verrà anticipata a venerdì 23 dicembre. Insomma un palinsesto decisamente variabile per lo show di Millie Carlucci che, anche quest'anno, sta registrando ottimi ascolti in prime time, con picchi che hanno raggiunto anche il 30% di share con una media che supera i 4 milioni di fedelissimi a settimana. Il cambio programmazione di Rai 1 del mese di dicembre, interesserà anche la messa in onda del Paradiso delle Signore. La seguitissima soap opera della fascia pomeridiana in grado di appassionare ogni giorno una media di quasi 2 milioni di fedelissimi con picchi che hanno raggiunto anche il 24% di share. Dopo lo stop di due settimane fino al 9 dicembre, la soap opera tornerà regolarmente in onda con le puntate inedite di questa settima stagione e da quel momento in poi non si fermerà più. Quest'anno, infatti, la Rai ha scelto di non stoppare la programmazione del Paradiso delle Signore durante il periodo delle feste di Natale. La soap con Roberto Farnesi sarà regolarmente in onda anche a ridosso delle settimane di festa e così andrà avanti regolarmente nella sua consueta fascia oraria che va dalle 16 alle 17 circa. Quest'anno, infatti, la Rai ha scelto di Natale. Quest'anno, infatti, la Rai ha scelto di Natale.